salve a tutti sono blasfemi e sto portando voce per il canale pixel industry oggi vi diamo una news del canale che è zazza chi è zazza? zazza è il nostro membro dello staff oggi entra a far parte del nostro staff questo soggetto oscuro della mia città amico di vecchia data che alias zazza come è nick cia zazza se lo conoscete in realtà sapete perché comunque diamo il benvenuto a questo nuovo membro spero si trovi bene con noi è un bravissimo gamer è veramente hardcore il suo tipo di gameplay mi piace molto sperando di avere la partnership presto vi faremo vedere il video i video completi purtroppo adesso mi tocca tagliarli perché posso caricare al massimo 15 minuti di video ma fidatevi fa dei game tipo di un'ora due ore fantastici cioè me li guardo tutti normalmente non sono uno che si riguarda tutti i video comunque per le news di quest'oggi è tutto da blasfemi e pixel industry soprattutto è tutto un saluto a zazza un saluto fateglielo anche voi commentate commentate mettete mi piace iscrivetevi al canale no vabbè mettete mi piace è una cazzata non mettete mi piace chi se ne frega di mi piace mettete mi piace no metterlo è un video di informazione comunque non condivetetelo neanche iscrivetevi al canale ecco e da pixel industry la sui maximus cucciola la regia è tutto un saluto ciao ciao